Eccoci qua, alle 7.49 del 20 agosto 2017 torna ad uscire il vulcano di Cantalice in località Portia, è uscito 4-5 giorni e sta liberato e lì è stato assente, stamattina sembra tornato là, al solito posto, rimane un mistero queste sue escursioni qua intorno, un mistero alla sua assenza di qualche giorno, una sorpresa, un mistero il suo ritorno, probabilmente ha risentito dell'attività etnea giù a Catania, ci sono stati molti terremoti lì intorno all'Etna che lasciano presumere un'attività sotterranea vulcanica che ha provocato terremoti e rimesso in moto dei fumi, dei magmi, ma comunque io non è che devo dare queste spiegazioni, io devo mostrare cos'è il vulcano di Cantalice, come si manifesta, se è bello, se è brutto, tutto qua, solo questo, se può essere un'attrazione turistica, se invece può rappresentare un pericolo per la popolazione, sono questi gli aspetti che devo curare io, oltre ad averlo scoperto, perché ci sarebbe ancora della gente che vedendo questo fenomeno pensa che siano delle erbacce che stiano bruciando per opera di qualche contadino. Comunque, terminato questo, una controllatina si è liberato, gliela voglio dare ugualmente, fino alle 9, ecco, non di più. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. la cittura